La cosa che mi ha sorpreso di più è l'ambiente familiare che si respira qui. Nessuno in particolare, ma tutti. Mi hanno accolto tutti benissimo, anzi direi di più, mi hanno accolto tutti come un fratello e quindi adesso da parte mia ripagare mettendomi a disposizione. Sì, è vero. Diversi club si erano interessati a me, avevo anche un po' esitato, però nel momento in cui si è fatta viva la Roma non ho avuto alcun dubbio, alcuna esitazione, anche parlando con il mister che mi ha un po' spiegato il progetto. Ho subito deciso che volevo venire qui e come mia abitudine sono qui per dare tutto, per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Aider l'equipe a fare il massimo metodo per andare il più possibile. Sì, sicuramente. Ho parlato con Manolas, in particolare dopo che avevamo raggiunto un accordo con la Roma, mi ha parlato benissimo della Roma, mi ha detto quanto grande sia questo club, del calore che si respira e che poi ho potuto riscontrare anche la familiarità che c'è in questo ambiente. I tifosi, l'Olimpia Cossa ha una tifoseria magnifica, dei tifosi molto caldi, quelli della Roma non sono da meno, lo abbiamo visto anche ieri e spero di essere accolto con lo stesso calore con cui sono stato accolto in Grecia.